Dopo i dubbi espressi dai sindacati circa la capacità finanziaria del gruppo Clementis per rispettare l'offerta di acquisizione della FIMER, la proprietà risponde con un comunicato. Circa l'acquisizione dell'azienda produttrice di inverter per fotovoltaico con sede a Terranova Bracciolini scrive Il CDA ha verificato che Clementis dispone di risorse sufficienti per coprire l'accordo firmato tra le parti il 10 luglio 2023. Clementis ha fatto un'offerta alla famiglia Carzaniga, proprietaria di FIMER, che è l'INA con l'accordo e attende la risposta della famiglia. La FIMER è attualmente in attesa della risposta del Tribunale di Milano circa il concordato preventivo. L'udienza è prevista per il 21 agosto.